Tutta la Puglia sanitaria è un cantiere da Foggia fino a Lecce e ovviamente in questo momento l'opera più importante è proprio questa della costruzione del nuovo ospedale. Come dicevamo, siccome le opere pubbliche, ne ho esperienza da sindaco, devono essere controllate in maniera molto stringente per evitare che ci siano perdite di tempo, abbiamo pensato di essere presenti oggi, non tanto per questioni di cerimoniale o anche se il primo plinto in cemento armato è una tradizione di tutte le grandi opere, ma soprattutto per far capire che le riunioni di ogni lunedì primo del mese del Direttore Generale vengono riferite immediatamente al Presidente, il Presidente poi le riferisce ai consiglieri regionali, in modo tale che il controllo della cittadinanza attraverso noi sia il più stringente possibile. È chiaro che si tratta, come avete visto, su ospedali rimasti a metà, Perrino, San Paolo e completati vent'anni dopo l'inizio della loro costruzione. Bisogna fare in modo che tutto vada per il meglio perché l'attesa è spasmodica e le strutture che questo ospedale sostituisce ed amplia sono allo stremo, nel senso che hanno assolutamente bisogno del completamento dell'ospedale per essere immediatamente sostituite.